Qui siamo a Santa Maria di Ligoddia. Ora andiamo a visitare il centro. Poi andiamo a vedere la carne. Intanto vediamo Santa Maria di Ligoddia. e taglio a Santa Maria di Ligoddia E' quello che qua è, è il mio bucorso. non mi piace ma non mi piace non mi piace non mi piace guarda che è una bella cosa non mi piace poi ci sono un beccanolo con la ricotta vabbè ce ne andiamo in un altro bar guarda andiamo a vedere il centro per le volte uno gira il mondo e poi non sei mai stato assentami a dire con Dio è come dire non sei stato da nessuna parte ma io sono stato a Proga qua, la, a Londra e poi non sei dove sta andando a me la telecozia dove è il centro? dritto, municipio un saluto a tutti gli amici di Santa Maria delle Goddee ora ora non sei musa sei caduta nella trappola del vetto che ti tiene incatenata le sue braccia le sue braccia sono cento sono infatti fu le canali le lacrime si sciorrono sono sempre sono della rifusa e la vita non fa fusa solo cerca di qualcosa di qualcosa che mi trovi solo a ridere del tempo e dell'amore che non c'è non c'è non c'è io vorrei non c'è non c'è è un'altra cosa è un'altra cosa mezz'ora, mi scrivi di niente negli occhi, tu hai qualcosa di nuovo, l'amore perfetto mi trova un amore, in vincente, non avere più fame, di avermi notti sopra, per parlare per farmi capire, da tutto il resto del tempo, perché non lo credo di dire, che mi tocca insieme, ma sto così dire, cosa ci faccio di conoscere, cosa mi faccio adesso di me, non so questa anche il mio cuore, per dichiarmi le mani, da questo mondo, ma è, va bene, da questo mondo, in centro di qua, a destra, cosa ci faccio io qui, cosa ci pianto nella mia terra, se adesso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.